un curiare saluto a tutti voi da Sara Zambon ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione dalla Lombardia di One TV News strani giri in auto che hanno fatto insospettire i carabinieri che l'hanno fermato e controllato. A bordo della sua vettura sono stati trovati droga e soldi e il suo aggirarsi con fare sospetto era quel turno di consegne per i clienti. I carabinieri della stazione di Castiglione Lono in provincia di Varese nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di droga hanno arrestato così un cinquantenne italiano residente nel Varesotto. I militari dell'arma e sospettiti da questi movimenti hanno fermato la sua auto e grazie a una curata perquisizione estesa anche alla sua abitazione sono stati in grado di rintracciare 50 grammi di cocaina e la somma in denaro contante pari a circa 200 euro. L'uomo al termine delle formalità di rito è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto applicando anche la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con dimora nella comune di residenza. Oltre 400 poliziotti delle squadre mobili di ben 27 province coordinati dal servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine della polizia di stato sono stati oggi impegnati in un'operazione contro il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Sono stati realizzati in tutte le zone interessate controlli e perquisizioni in abitazioni e esercizi pubblici in cui venivano offerte prestazioni sessuali a pagamento mascherate da inesistenti attività professionali come centri estetici. Le attività sono state pubblicizzate anche online attraverso siti e piattaforme di messaggistica appositamente delicati. Sono sette in tutto gli arrestati per reati in materia di immigrazione, sfruttamento della prostituzione, stupefacenti e reati contro la persona. Denunciate altre 71 persone per gli stessi reati e in un caso anche per vendita illegale di Viagra. Durante le perquisizioni sono state trovate numerose dosi di hashish, cocaina ed eroina e sequestrate un fucile detenuto illegalmente, tre immobili dove venivano consumate le prestazioni sessuali e 10.000 euro in contanti. Elevate anche 82 sanzioni amministrative per esercizio abusivo dell'attività commerciale, violazione della normativa sull'immigrazione e sugli stupefacenti, irregolarità sull'assunzione dei lavoratori, sulla tutela della salute e sicurezza su luoghi di lavoro e in materia di igiene e conservazione degli alimenti. Hanno collaborato e dato supporto agli investigatori 60 equipaggi dei locali, riparti di prevenzione crimine e numerose unità cinofile. Scomparso senza lasciare alcuna traccia, imbarcandosi su un volo diretto a Capoverde dopo aver rubato più di 500.000 euro dall'ufficio poste italiane di Cesano Maderno di cui era direttore. Soldi recuperati tra pensioni, depositi, banco, mat e libretti di risparmio. Una 44enne ex dirigente delle poste è stata arrestata oggi dai carabinieri. L'indagine era avviata agli inizi del scorso mese di febbraio quando, in corrispondenza dei fine settimana, prima era stata denunciata dai familiari la scomparsa del direttore di un ufficio postale di Cesano e la mattina del lunedì seguente, al lato della riapertura, il personale dell'ufficio stesso aveva scoperto e segnalato un ammanco dalla cassa di decine di migliaia di euro in contanti. All'indagato viene ora contestato il delitto di peculato continuato sino al febbraio 2024 con riferimento alla somma complessiva di oltre 430.000 euro. L'indagato, dopo circa un mese e mezzo di permanenza all'estero, ha fatto rientro in Italia ed è stato rintracciato dai carabinieri nel comune Brianzolo in cui risiede, è stato quindi tradotto alla casa circondariale di Monza. Zaccaria Mohib, in arte baby gang, è uscito oggi, poco dopo il 12.30, dal carcere di Bustorsizio dove si trovava detenuto, tornando così agli arresti domiciliari. L'uscita dalla casa circondariale di Via Percassano è stata spettacolare perché il ragazzo è ritornato appunto alla propria abitazione in Lamborghini. Il Tribunale del Riesame di Milano ha infatti deciso per la sua scarcerazione annullando l'ordinanza della Corte d'Appello con cui lo scorso 29 aprile era stato disposto l'aggravamento della misura nei suoi confronti per una serie di violazioni, a cominciare dalla diffusione sui suoi canali social di immagini promozionali del nuovo album in cui mostra una pistola dell'erba e ostenta anche il braccialetto elettronico. Secondo i giudici del Tribunale della Libertà, che hanno accolto la richiesta dell'Avvocato Difensore, i magistrati d'Appello non avrebbero tenuto conto del fatto che il trapper fosse stato autorizzato dalla stessa Corte e dal Tribunale prima a derogare sia l'obbligo di permanenza al domicilio, sia gli vieti di comunicare con soggetti terzi. Nel contempo il 22enne ha avuto diverse concessioni di autorizzazioni per svolgimento di attività lavorativa e in particolare per lo shooting fotografico, la produzione di videoclip e anche la possibilità di incontrare presso il domicilio uno dei propri collaboratori. Nell'udienza tenuta sì ieri, la difesa di Baby Gang ha sostenuto che le immagini divulgate sui social e per le quali la Procura Generale milanese, che sta celebrando il processo d'appello per la spartoria di Corso Como, ha chiesto il rientro in carcere, allegando alcuni screenshot telefonici, sono immagini promozionali del nuovo album in uscita proprio questo mese di cui ci sarebbero addirittura le fatture. Il rapper avrebbe quindi sempre lavorato previa autorizzazione, come dimostrerebbe il suo percorso autorizzativo. Gemellaggio tra Lombardia, Sicilia e Sardegna in materia di prevenzione e lotta attiva antincendio boschivo per la campagna estiva 2024. Sono in tutto 156 volontari appartenenti alle associazioni lombarde presenti nelle due isole maggiori per aiutare le regioni storicamente più colpite da questo fenomeno. Ripetendo l'esperienza degli anni precedenti, Lombardia ha inviato al campo base di Calatafimi, provincia di Trapani, dal 22 giugno al 28 settembre, 42 volontari partecipano in gruppi di volontariato dalle province di Brescia e Pavia, della comunità montana della Valle Seriana, quella dei Laghi Bergamaschi e l'Associazione Nazionale Alpini. In Sardegna sono stati attivati 5 campi base per un periodo di operatività compreso fra il 29 giugno e il 20 di agosto. In totale, in questo caso, sono 114 volontari impiegati in diverse località. Come Regione Lombardia ha detto l'assessore regionale della protezione civile romano-la-russa, attraverso il Dipartimento di Protezione Civile e la Commissione Speciale abbiamo accolto le richieste di attivazione dei gemellaggi per la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi. Per questa estate i volontari, dei più giovani, i più rodati, hanno a loro disposizione quindi un'esperienza formativa fondamentale per approfondire le proprie conoscenze, testare le capacità di intervenire in scenari di rischio, tutelando se stessi e gli altri e riportare infine quanto appreso come prezioso pagaglio di competenze da utilizzare anche nei nostri territori. Garavaglia Castanese, volendo dare un titolo, questo sarebbe sicuramente Continuiamo Insieme. Sarà infatti ancora Alfio Garavaglia a guidare la prima squadra della storica società calcistica castanese anche nel prossimo campionato. È stato Alessio Belleri a incontrarlo in queste ultime ore per parlare di presente e futuro. Sentiamo. Via, 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 sì, bravissimo, sì. Continuiamo Insieme, si potrebbe dire così, mister Alfio Garavaglia continua infatti con la Castanese. Mister, che cosa le ha fatto dire voglio continuare con la Castanese? Innanzitutto voglio continuare perché poi quando ci siamo sentiti l'ultima volta l'intenzione era un po' di fermarmi sia per la delusione sportiva che poi per diversi motivi lavorativi e tutto. E poi anche quella frase che mi avevi detto all'ultima giornata di campionato che mi avevi visto spento è stato uno stimolo per far sì che si possa andare avanti un altro anno ed allenare con tutti gli stimoli giusti, con magari un po' meno pretese, cioè senza fare i professionisti, tra virgolette, ritornare ad allenarci alla sera con ragazzi che hanno voglia, migliorare i ragazzi, migliorare i nostri stimoli e buttare tutto sul campo e cercare di far meglio rispetto a quello che abbiamo fatto. Come si riparte adesso? Si riparte con umiltà, si riparte con una società che come ti dicevo prima strada facendo per me una famiglia è come essere a casa, si riparte con la voglia di innanzitutto di migliorare ogni singolo giocatore che verrà in questa società e mettere a disposizione tutto quello che abbiamo per fare il nostro meglio. Si sta facendo già mercato per la prossima stagione, qualche giocatore penso sia già arrivato, su cosa punterete? In effetti siamo partiti un po' tardi perché sia io ma anche il Debe e la società abbiamo atteso un attimino per diversi eventi, ma adesso siamo partiti alla grande, abbiamo già contattato diversi giocatori, i giocatori li stiamo scegliendo in base a come si vorrà giocare, in base alle caratteristiche anche umane delle persone che verranno a giocare da noi, abbiamo contattato prima di tutto i ragazzi che già conoscevamo, qualcuno che era qua due o tre anni fa con noi e poi in base ai ruoli quello che ci serve per caratteristiche e ci stiamo muovendo, ci stiamo muovendo bene, questo è Debe che ha il merito di contattare un po' tutti perché siamo io, lui e Andrea che farà il mio secondo, quindi un po' il carico di direttore sportivo e direttore generale in questo momento è sulle spalle di Debe ed è che sta contattando, ma vedo che i ragazzi adesso man mano stanno arrivando, siamo quasi a buon punto insomma. Vogliamo chiudere con un messaggio ai tifosi? I tifosi, ricreare l'entusiasmo che forse avevamo un pochino perso negli ultimi due anni, vabbè io uno non c'ero ma comunque ero qui presente quando potevo perché giocando al sabato o magari al mattino e quindi ricreare l'entusiasmo, portare gente allo stadio, portare tanti ragazzi giovani allo stadio sia da giocatori come nel settore giovanile, entusiasmo direi e serenità. Regione Lombardia mette anche in campo un progetto da 2,56 milioni di euro per valorizzare il territorio dell'oltrepo pavese legato al salame di Varsi, DOP. Le risorse finanzieranno una serie di interventi infrastrutturali e di promozione turistica nei nuovi comuni aderenti all'iniziativa Arest. Si tratta di Romagnese, Varzi, Colli Verdi, Valdinizza, Ponte Nizza, Rocca Susella, Cicima, Montesegale, Borgoratto e Mormorolo. Assessore, ancora una volta pubblico e privato insieme per valorizzare una peculiarità del territorio. Questa è la strada di Regione Lombardia? Sì, è il far sistema all'interno dei territori per avere non solo un sano rapporto pubblico privato, ma anche una strategia di tutto l'ecosistema. L'ecosistema è fatto non solo dalle aziende, ma anche da tutti, dalle istituzioni, anche dagli istituti di credito, anche da tutti coloro gravitano all'interno dell'ecosistema che ha come obiettivo quello di mettere nelle condizioni ottimali le aziende per essere competitive e per raggiungere i propri obiettivi. Poi è evidente che per noi questa strategia vuol dire anche innovare e rinnovare alcune peculiarità dal punto di vista economico e proprio per questo che ci sono progetti differenti territorio per territorio, fortunatamente con un unico obiettivo che è quello di dire ad un giovane oggi che un domani può giocarsi la propria sfida all'interno del proprio territorio. Grazie a Regione Lombardia e grazie all'assessore regionale Guidesi. Oggi siamo qua in comunità montana dell'Oltrepopavese a presentare il progetto Arest per il rilancio dei borghi del Salame di Varzi di OP, una grandissima opportunità per il nostro territorio. Oltre 2 milioni e mezzo di euro di finanziamenti che serviranno proprio per supportare la nostra filiera del Salame di Varzi di OP e riusciremo con quei fondi ad investire anche per l'accessibilità dei luoghi e anche dei servizi proprio a disposizione dei nostri imprenditori locali. Un finanziamento che è sinonimo di grande attenzione da parte di Regione Lombardia anche perché per noi i nostri imprenditori locali sono il cuore del nostro territorio e sono coloro che tengono in piedi e riescono a tenere vive le nostre valli e la nostra area interna. E anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi ed averci seguito. Come ogni giovedì la prima serata del canale 79 sarà delicata a Speciale One TV questa sera alle 21 con Primiano Mandunzio e i suoi collaboratori del territorio per raccontarci ciò che accade e mostrarci sempre splendide immagini inedite. Noi ci ritroviamo domani sera sempre alla stessa ora e sempre sullo stesso canale per un nuovo appuntamento, quello conclusivo della settimana con l'informazione locale. Buona serata a tutti voi in compagnia dei programmi di One TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti.